All'Expo di Milano è stata presentata la settimana del pomodoro che avrà il suo culmine sabato con la presentazione lungo il decumano della pizza più lunga del mondo, obiettivo l'ingresso nel Guinness dei primati. Ma il reale traguardo è quello di rendere più competitiva l'industria italiana rispetto al resto del mondo anche perché con i consumi mondiali di cibo che continuano a crescere il pomodoro è il protagonista della domanda alimentare. A questo proposito è stato presentato il protocollo d'intesa fra il distretto del pomodoro da industria nord Italia e il polo distrittuale del pomodoro da industria centro-sud. L'accordo è importante perché tutto il pomodoro italiano viene fatto principalmente per i mercati internazionali quindi per l'estero. È necessario unificare il messaggio, il pomodoro italiano è un prodotto italiano ed è idoneo per l'estero. I due poi distretti del centro-sud e del centro-sud ha le loro specificità e le loro qualità su prodotti diversi quindi non concorrenziali. C'è un obiettivo più interno alla filiera che è quello di riuscire ad arrivare a politiche comuni di tutta la filiera italiana che troppe volte si divide tra nord e sud proprio perché noi abbiamo bisogno della forza di rompente che produttori e trasformatori italiani hanno sui mercati internazionali per poter continuare ad imporre un modello che è il modello del pomodoro made in Italy.